ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è lo yema rally graph rally graph un nome un po così perché yema con questa denominazione va ad identificare tutta una serie di referenze che sono molto differenti tra loro ad esempio esiste anche il rally graph mecha quartz che è un cronografo completamente differente da questo il nome completo di questo orologio che ho qua sul canale io oggi è rally graph alpine endurance team e come si evince dal nome è proprio un orologio che è stato progettato concepito pensato realizzato per il team alpine che corre nel campionato endurance quindi l'orologio è stato visto al polso di meccanici di dirigenti di piloti che corrono in questo campionato 24 ore di lama 6 ore di monza eccetera 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 chiaramente io non è che l'ho portato sul canale perché per questo motivo qua non è che un buon product placement riesce a convincermi no l'ho preso perché mi piaceva l'ho visto il negozio e subito di primo achitto detto cavolo che bello questo orologio e quindi me lo sono fatto mettere a disposizione dal buon giacomo me lo sono fatto mettere a disposizione dalla gioielleria pasquale domenici che parte un ufficiale del canale e offre un trattamento di favore a voi che guardate è concessionaria del marchio iema di altri marchi e quindi basta che fate una telefonata e vedrete il trattamento che vi offre dicevo che l'orologio mi è piaciuto subito di primo achitto appena me l'ha tirato fuori dalla scatola che era appena arrivato con la spedizione questo qua lo prendo lo porto per fare la recensione perché mi piace un casino senza nemmeno sapere le specifiche tecniche le caratteristiche magari poteva essere un bar di resistenza alla pressione no non l'ho guardato preso portato via infatti perché mi piace è bello è un bello orologio ora però prima di guardarlo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo mio bellissimo viller z dyna wind 39 mm di diametro cassa calibro sellita sv200 che qui vedete con il suo nuovo cinturino perché mi sono fatto fare un cinturino dall'amico john cool straps che fa i cinturini artigianali ed è quello qua un nato in pelle un nato in pelle single pass non sono fatto fare da 20 l'ansia da 22 me lo sono fatto fare da 20 ho deciso di indossarlo con questo mi sono fatto fare anche un cinturino da 21 grigio scuro ma per ora preferisco questo nato qua da 20 che passa sotto semplice mi piace tantissimo adesso giriamo la camera diamo uno sguardo a questo bellissimo navigraph e poi ci ritroviamo qui come al solito per le considerazioni finali vediamo quali sono i risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 39 mm spessore 12.2 ingombro trasversale al polso 47.2 mm e interasse ansa da 20 mm misure idilliche per qualsiasi misura di polso poco più di 12 di spessore da considerarsi nella norma se non addirittura sottile diametro adatto a tutti e lug to lug contenuto specie per questa tipologia di cassa che vede una conformazione ansa corta e squadrata si tratta di un design mutuato direttamente dal modello yema degli anni 80 che chiaramente risentiva ancora degli stile minati e proposti per tutto il decennio precedente un profilo cassa che vede la tipica struttura torretta con fondello e gruppo ghiera ben delineati rispetto alla carur quest'ultima appare finemente lucidata in contrasto con la parte superiore che invece riflette la luce in maniera differente questo perché è presente una satinatura particolarmente efficace a livello visivo che prosegue anche sulla parte inclinata dell'ansa esiste anche un sottilissimo bisello lucido a separarle non è percepibile a prima vista ma lo si nota guardando l'orologio sotto diverse angolazioni è praticamente a zero all'altezza della corona per poi allargarsi leggermente in prossimità delle anse altri elementi che contraddistinguono lo stile sono sicuramente i finali del bracciale che muoiono affogati nel corpo cassa integrandosi perfettamente e dalla ghiera con inserto in alluminio che sembra fluttuare sul piano cassa grazie ad una particolare finitura della superficie verticale ci sono un paio di considerazioni da fare a riguardo in primis il design originale della sagoma che però non è altrettanto funzionale tende ad essere scivolosa anche a mano nuda figuriamoci con i guanti e secondo luogo che si tratta di una ghiera girevole bidirezionale senza scatti e liscia come l'olio questo perché il suo fine ultimo è quello di misurare la velocità media in relazione al tempo trascorso tempo trascorso che poi riportato sulla scala bianca interna lungo il rio devo confessarvi che non sono riuscito ad interpretare il modo corretto di utilizzo e come si procede con i calcoli mi sono sentito come mi sento solitamente di fronte ad un brightening navi timer spa esato ad ogni modo come spesso capita le funzioni di un dato orologio non vengono quasi mai usate dagli utilizzatori finali e suppongo si possa indossare questo navigraph anche senza sapere a cosa possa servire la scala riportata di sicuro c'è che il rio inclinato e bianco regala al quadrante un tocco vintage di indiscutibile fascino che si completa poi con gli altri elementi presenti indici a bastone leggermente rialzati e ricoperti di superluminova e sfere a matita a finitura metallica satinata il colpo d'occhio è quello di un quadrante alquanto pieno senza però risultare esagerato gli indici dei secondi a corollario sono piuttosto presenti e lunghi così come sono ben visibili quei piccoli numeri a doppiare ogni indici con il fine di segnare graficamente minuti volendo essere pignolo e antipatico potrei dire che il numero 5 presente sul primo indice avrebbe avuto ragione di essere rappresentato con uno zero davanti in modo da equilibrare il risultato visivo restituito ma vi assicuro che ad occhio nudo si fatica a capire che si tratta di numeri la loro funzione è meramente estetica il tocco di colore dato poi dalla sfera secondi che all'estremità corta presenta il logo della scuderia alpine il tipico blu dei colori della scuderia stessa non ho ancora menzionato una specifica tecnica che per molti è un punto cruciale si tratta di un orologio capace di resistere a 10 atmosfere di pressione un ottimo risultato che esula dallo stile corsaiolo del navigraf e che lo rende utilizzabile in qualsiasi situazione anche quelle a rischio acquatico dato positivo nonostante ci troviamo di fronte ad una corona pressione caratteristica che solitamente viene considerata come di un livello di sicurezza inferiore rispetto ad una vite poco male ma è un punto da tenere presente e che so che per alcuni può essere il punto di non ritorno avvitato la cassa invece il fondello che appare anche ben decorato in bella mostra troviamo il logo alpine realizzato tramite pressa idraulica e quindi in basso rilievo lucido rispetto al fondo sabbiato un bel dettaglio che conferisce solidità all'aspetto posteriore dell'orologio e di conseguenza è tutto l'insieme a trarne giovamento al di sotto del fondello batte il calibro in house dell'azienda lo yema 2000 ho già parlato in passato di questo movimento e per un approfondimento vi invito a guardare questo video un calibro che viene regolato su quattro posizioni e con uno scarto giornaliero dichiarato pari a più 10 meno 10 secondi ma giriamo l'orologio e torniamo al quadrante per concludere il discorso occorre parlare della leggibilità e devo dire che nella sua globalità riesce a restituirci un'eccellente capacità di lettura la differenza tra fondo ed accenti è bene evidente ed anche in assenza di luce gli elementi del quadrante appaiono facilmente riscontrabili non vi è invece nulla sulla lunetta ma è meglio così già incomprensibile di giorno figuriamoci al buio l'importante è che si riesca a leggere l'orario non rimane che disquisire a riguardo del bracciale che esteticamente caratterizza fortemente l'intero orologio ogni maglia è formata da ben nove segmenti la cui finitura si alterna tra il lucido e l'opaco nove segmenti sono tanti ed è proprio questa frammentazione a restituirci il design particolare che stiamo osservando la sottigliezza e la frammentazione lo rendono poi molto comodo al polso riesce a fasciarlo ergonomicamente senza mai risultare fuori luogo la qualità è buona con i pina pressione unidirezionali che svolgono il compito di tenere fissate le maglie e la clasp di egregio spessore buona fattura da segnalare che sono presenti ben quattro fori di micro regolazione e la prolunga per poterlo indossare esternamente sopra gli indumenti non è questa una peculiarità dei divers anche gli orologi dedicati alle corse possono essere indossati in bella vista possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali leviamo subito le castagne del fuoco e partiamo dai punti deboli che sono pochi sono sono pochi in primis era la ghiera ghiera girevole è piuttosto ostica da girare scivolosa e grip non è buono si fa fatica a girarla e poi uno dice ma cosa la giro a fare che un altro punto debole che perlomeno io ho riscontrato e che non si sa a cosa serve nel senso che un motivo c'è si deve sapere come c'è esiste la funzionalità di questa ghiera però progettato solamente che io non sono riuscito ad arrivarci mea culpa ragazzi scusatemi vi chiedo perdono ma io non sono riuscito a capire come funziona il calcolo dei tempi non mi ha dato saperlo un po come ripeto come con il bright in navi timer cioè non ci ho mai capito cosa significano tutti quei dati quelle scale che sono sul quadrante però se piace uno lo prende anche in questo orologio no d'altronde chi è che chi utilizza le funzioni il diver in una ghiera e cronografo quasi nessuno quindi in quel caso lì questo caso qua dello yehman avigraf facciamoci andare bene che io non ho capito come funziona poi vabbè c'è quella del 5 sull'indice ore 1 che potevano metterci lo 0 davanti ma lì siamo veramente nel pretestuoso niente di che niente di che punti forti invece sono tanti cioè un bello orologio buona qualità misure misure equilibrate un orologio che può essere indossato da chiunque un bel bracciale morbido e comodo e aspetto retro però senza andare a copiare qualcun altro aspetto retro tutto suo secondo me è un bello orologio è promosso poi io a me piace io vi ho messo qua tutte le ingredienti sul piatto poi scegliete voi decidete voi se fa per voi o se non fa per voi questo orologino boom mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube Love